E siamo di nuovo qui, purtroppo, a parlare dell'ennesima tragedia. L'alluvione che sta colpendo l'Emilia Romagna da giorni ha visto il numero delle vittime salire a 14, migliaia di sfollati e molti dispersi. Di tragedia in tragedia assistiamo sempre allo stesso identico modus operandi. Si cerca di piantare bandierine politiche di vario genere, si fa lo scaricabarile dello scaricabarile. Purtroppo in questi giorni ho sentito letteralmente di tutto. Come se non fosse stato già abbastanza per i nostri poveri occhi leggere, seppur per poco perché abilmente rimosso ma internet si sa non perdona, il tweet di Matteo Salvini che accomunava la tragedia alla perdita del Milan. In questi giorni è tutto un gran bociare. C'è chi dà la colpa alle nutrie e all'istrice. Re di aver commesso il più grave dei crimini, quello per cui Natura le ha progettate. Scavare tane. Qualcuno dice che la causa sono loro, che hanno fatto buche e hanno dissestato il terreno. Poi c'è chi dà la colpa alla geo-ingegneria. Perché no? Al fato, al destino, al cambiamento climatico. Tutto buono, tutto ammissibile pur di non guardarci mai in faccia allo specchio. Di non dare la colpa alla mala politica, ma anche alle nostre azioni. Io non sono una geologa, non sono una meteorologa. Ma è abbastanza evidente che qui la colpa non è di Zeus, che nella sua ira scatena fulmini e saette. La ricerca di un colpevole al di fuori di noi, che ci impedisce quindi di farci un'analisi di coscienza, è una prerogativa dell'essere umano. Così come quando si sacrificavano animali per placare l'ira del Dio, per placare l'ira del cambiamento climatico adesso cercano di convincerci al sacrificio delle auto. Come se casomai le auto elettriche risolvessero il problema delle alluvioni. Come ho detto, non essendo geologa, non ho gli strumenti per entrare nel merito di questo nemico invisibile che è il cambiamento climatico a tutto tondo. Ma, ahimè, sono una storica. E a smontare la tesi che esista questa causa superiore all'uomo in queste specifiche zone, interviene appunto la storia. E questa ci dice che no, in questo caso, le cause sono altre. Non è solo il fatto che i comuni interessati dall'alluvione, se tracciati sulla mappa, fanno tutti parte di quella che è la pianura detta appunto alluvionale. Ai piedi della catena appenninica che attraversata da fiumi e torrenti, in caso di esondazioni, non scarica l'acqua in mare, ma appunto, incontrando la pianura, si raccoglie con una sorta di effetto piscina e i piloghi tragici come quello che stiamo vivendo in questi giorni. Ma anche perché, storicamente, eventi del genere si sono presentati ciclicamente. Anche in epoche in cui era impossibile appellarsi al cambiamento climatico e alla scarsa sostenibilità ambientale. Eventi simili, infatti, riguardano la realtà di questo territorio già dall'88 a.C. L'antica Bononia, nome latino antico di Bologna, dove la storia del corso del Reno, i suoi cambiamenti di rotta, le sue esondazioni, I danni provocati da questa realtà nel corso dei secoli sono all'origine di un contenzioso secolare, appunto, tra i comuni di Ferrara e di Bologna stessa. Dall'88 a.C. il Reno ha cambiato rotta almeno cinque volte. Ma alle cause naturali si mischia sempre l'incuria dell'uomo. Nel VII secolo crolla un ponte romano, non soltanto per le acque, ma per la scarsa manutenzione dovuta alla grave crisi generata dalla caduta dell'impero romano d'Occidente e l'arrivo dell'Alto Medioevo. Ancor più celebre è stata l'alluvione del 1896. Il 22 agosto, quindi in estate piena, il Reno invade la bassa bolognese e Ferrara. Ci sono danni per oltre 8 milioni di lire. In quel caso, fortunatamente, nessuna vittima. Di nuovo le cause naturali si mescolano alla mala politica. Il 26 agosto, il resto del Carlino puntava il dito contro i soldi stanziati in bilancio per interventi di manutenzione, mai realmente investiti. Ma la realtà delle alluvioni, purtroppo, non è una realtà solo di queste zone, ma di tutta Italia. Una realtà che si scontra sempre con lo stesso identico scoglio, cercare le cause altrove rispetto alle responsabilità dell'uomo. Le alluvioni sono una realtà storica che genera una lista infinita di disastri e di vittime. Calabria 1951, 68 morti. Polesine 1951, 101 morti. Genova 1953, 10 morti. E poi ancora Salerno, Toscana, Trapani, da nord a sud. Sono realtà conosciutissime, veri e propri drammi annunciati, dove ogni volta, cercando le responsabilità altrove, non facciamo altro che mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi. La realtà delle alluvioni in Italia è talmente tanto nota da aver investito persino la cultura popolare. Pensiamo ad esempio al cantautorato, a Dolce Nera di Di Andrè, Storia d'amore, ma nello scenario dell'alluvione di Genova del 1970, dove l'esondazione fu provocata dalla rottura degli argini del torrente Polcevera, a cui rimanda il titolo. Pensiamo alla cinematografia, dove Don Camillo, nel ritorno di Don Camillo del 1953, celebra messa immerso nell'acqua fino alla vita, ricordo dell'alluvione di Polesine citata prima nel 1951. Non sono eventi fortuiti ed eccezionali, dove le cause non sono concretamente tracciabili. Sono eventi noti, prevedibili, che si scontrano con l'incapacità e con l'incuria umana. Perché il vero problema da cui si cerca in tutti i modi di deviare l'attenzione è il problema delle manutenzioni. Persino i romani avevano intuito che il letto di un fiume o di un torrente andava controllato e gestito, che bisognava togliere i rami, i detriti, talmente tanto consapevoli che non solo si istituirono corpi appositi per la manutenzione dei corsi d'acqua, ma che, come riporta Aulo Geglio, giurista del secondo secolo, un pretore di età repubblicana, chiede ai privati la possibilità di agire in giudizio, nell'interesse collettivo, contro quell'appaltatore che non avesse eseguito questi lavori a regola d'arte. Noi, invece... Al cittadino si impedisce di fare, le amministrazioni non fanno, i progetti non partono. Più di 8 miliardi tra fondi del PNRR e il progetto Italia Sicura non vengono utilizzati, perché la Corte dei Conti ha dubbi sulla progettualità. 55,2 milioni di euro sono stati restituiti dall'amministrazione Bonacciri perché l'intera squadra non è stata in grado di investirli nei termini stabiliti per i finanziamenti. Ecco, sono queste le cose che fanno incazzare. Fa incazzare che non vengano portate avanti delle politiche della prevenzione perché si sa quelle non portano voti e quindi ci si pieghi costantemente alla ricerca del consenso. Fa incazzare la cementificazione massiccia in cui l'Emilia-Romagna detiene un triste primato. Tra 2020 e 2021 l'Emilia-Romagna è stata la terza regione italiana per consumo di suolo, più di 658 ettari cementificati in un solo anno. significa che si è registrato oltre il 10% di tutto il consumo di suolo nazionale. Fa incazzare la politica dei condoni di manica larga in cambio di consenso elettorale, il disboscamento selvaggio e tutta una serie di concasualità che hanno a che fare con la pochezza umana. Non è una punizione divina del tempo, anche se a una certa politica conviene portare avanti questa narrazione. Sfruttare episodi, come nel caso specifico, che non c'entrano assolutamente nulla per accelerare quella grande mangiatoia delle rinnovabili e delle auto elettriche. Ma questo proprio no, non è decisamente il caso in cui lasciare spazio di manovra a sciacallaggi di questo genere. Quindi invece di cercare il caprio espiatorio nelle nuvole, nel tempo, nell'impalpabile, cominciamo a capire che certi eventi accadono, che forse non si possono fermare, ma che dovrebbe essere compito della politica quella di dare ai cittadini tutti gli strumenti per fronteggiare le situazioni del genere o per tamponarle. Facciamo l'esempio del Vesuvio, un esempio che io conosco molto bene perché lo vedo, con la gente che sta letteralmente seduta su una bomba d'orologeria. Quando esploderà? Non se, ma quando. Mi auguro succeda tra diecimila anni. A chi daremo la colpa lì? Al dio vulcano? Al sole che l'ha surriscaldato e l'ha fatto esplodere? Alla vulcano ingegneria? O a chi ha concesso condoni in cambio di voti permettendo di costruire fino ai piedi del vulcano? E consapevoli di aver fatto un danno di tale portata non creano manco un piano di evacuazione adeguato. Perché chissà se i progetti si fossero fatti, se i soldi fossero stati investiti, se si fosse attuata quell'impopolare politica della prevenzione. Chissà se non ci sarebbe stata una risoluzione migliore. Migliore di quella a cui ogni volta assistiamo, di tragedia in tragedia. Quindi come sempre ci sarà un po' di cordoglio, un po' di bagarre politica, qualche passerella, occhi puntati altrove. Tra una settimana sarà tutto finito e così via fino alla prossima tragedia. Sembra un po' la storia del tizio che precipitando dice fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene. Peccato però che il problema non sia mai la caduta, ma l'atterraggio. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale YouTube e agli altri indirizzi social che trovi qui. Se puoi sostenere il progetto Pabolo, un semplice caffè, una piccola donazione all'impopol che trovi qui sotto. Ciao e a presto!